Nessun problema ragazzi, qui è tutto, sotto contro ci siamo noi adesso qui sul mio canale Ri-iniziamo un video dell'apertura dei premi della weekend league da qui Perché? Perché è da tanto che non vi porto video E quindi volevo portarvi questo video direttamente oggi Quindi un po' in tardo orario, però comunque ve lo volevo portare Per non farmi mancare un video un altro giorno, cioè un ulteriore giorno in più Visto che voglio comunque continuare ad essere abbastanza attivo sul canale Comunque niente, sono uscite le icon prime, io giocavo ad altri giochi mentre si sono fatte le 7 Sono uscite le icon prime, andiamo a vedere oltre ai pacchetti anche degli investimenti Prima di aprire i nostri pacchetti, comunque sono arrivato oro 3 Non c'è stato l'epilogo della weekend league ovviamente perché lunedì è stato natale Quindi ho preferito non portarvelo, comunque vi auguro buone feste ancora Anche se comunque il natale è passato ma siamo ancora in clima di festa diciamo così Sono arrivato oro 3 e andiamo a vedere insieme tutte le nuove icon prime che sono Alan Shearer, Dennis Bergkamp, Carles Puyol e Patrick Vira che è il top player di questa serie di icone Allora qua Shearer devo dire la verità che è abbastanza facile Perché sì è un po' un ricost attaccante diciamo perché le sfide sono quelle Newcastle, Southampton, sì dai le sfide sono quelle Dennis Bergkamp chiede l'icona quindi la chiede però non chiede l'intesa all'icona Chiede i giocatori dell'Ajax quindi ottimo investimento che ho fatto I giocatori dell'Arsenal, i giocatori olandesi E poi non chiede altre icone ma chiede 84, 85, 87, 86 Anche Bergkamp non è che sia abbastanza costoso, è un po' un delpiero Carles Puyol non chiede icona Non chiede icona, Puyol vabbè comunque è abbastanza scarsino per questo comunque non le chiede Però chiede un po' di if E vabbè poi chiede i giocatori olanda 2010 Perché ha? Ah forse 2010 ha vinto il mondiale Ah Spagna sconfitta con la Spagna sconfitta nella finale Ma perché? Ma vabbè Proprio una abbastardata E poi Patrick Vira Che chiede l'icona a CC Poi Francia, Juve Inter, Arsenal ancora, Manchester City 83, 89, 85, 86, 87 Non chiede altre icon, ottimo a sapersi Che comunque non è costosissimo quanto è Rio Quindi andiamo ad aprire i nostri pacchetti Speriamo in bene E andiamo con il primo pacchetto mega Dai ragazzi Pacchetto da 35.000 crediti E non è bandierine E non è niente Dai cazzo Sono felice così Dai Chi è? Iborra Si sborda Ok grandissimo Iborra Cocorin, Caser, Scamano Vabbè tutta gente orrendamente scarsa Conserviamoci i contratti Poi direi di prendere le forme fisiche Le guarigioni, velocità, tutti gli attributi Questo cambio ruolo che è ottimo E basta E poi vabbè Thomas Partey lo mandiamo alla lista E vabbè insieme ad altri 54 investimenti Dai Andiamo col secondo pacchetto mega Vediamo subito chi ci esce E lavagna Perfetto Non è icon, non è if Non è qualcosa di speciale Ma che schifo Ma che schifo Svizzera madonna mia Almeno summer Cioè almeno Burkino Mi ha dato summer Vabbè conserviamo tutto Che ci può tornare tutto utile Conserviamo i contratti Conserviamo i contratti allenatore Vai Buttale via Prendiamo questi Poi Cocorin l'abbiamo appena trovato Klopp si può vendere a qualcosina di crediti E il resto si possono scartare Dai Pacchetto giocatori rari Pacchetto da 50.012 Giocatori tutti oro E tutti rari Dai ragazzi Vi prego Vi prego Vi prego Che lavagna Non è if Ok non è if Però speriamo qualcosa di forte Olandese DC Ma dai Ma che schifo Ma che schifo di premi Madonna mia Per ottimo Ma puoi darmi Tu puoi darmi 3 della Roma 3 della Roma Mi ha dato Ma che schifo 3 della Roma E poi uno della Lazio Quindi il derby fin era 3 a 1 Giocatelo E vabbè Quindi per concludere questo video Vi faccio un attimo vedere I miei investimenti Oltre agli if Ovvero Pizzi Guardate qui quanti giocatori Tra Arsenal Newcastle Ajax E poi anche il Bristol Rovers Qui Blackburn Rovers Che qua Ci ho perso un po' di credit Ma Vabbè Tutto di guadagnato Dalle altre Dagli altri investimenti Poi c'ho altre cose Nel club C'ho altri investimenti Nel club Ovviamente Che farò proprio quando Andrò a controllare Tutti i prezzi Io Da solo Perché ho pure Questo video Tra tantissimo Niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Nel video C'è scherzo Nel video Io vi saluto Vi ricordo Non c'è nessun Prack Tutto sotto controllo Bella ragazzi Grazie a tutti